E' San Giovanni in parco, una delle opere il cui recupero di volta in volta negli anni è assurdo alle attenzioni delle amministrazioni comunali e dell'opinione pubblica a nocere inferiore. Cosicché, sollecitato, fa il punto della situazione il sindaco Maglio Torquato. In passato ci sono state difficoltà legate proprio alla realizzabilità tecnica. Io credo che anche su questo bisognerà procedere, non tutto, non subito, perché abbiamo visto che buona parte delle cose che sono state negli anni messe in cantiere hanno poi prodotto un eccesso di spesa pubblica non indifferente. Noi abbiamo una situazione sotto questo profilo veramente impegnativa per le casse del comune, non sempre ragionevole, anzi spesso irragionevole se vediamo le pavimentazioni in giro per la realtà di nocere. Ma non è questa la questione di San Giovanni in parco che dovrà essere completata nei tempi che saranno consentiti anche dalla sostenibilità della spesa.